Spazio del cross, basso! Allunga il tiro! Lulic! Il vantaggio tra Lazio! Il vantaggio tra Lazio! Senad! 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 Il giustiziare! Lulic! Lazio 1! Lazio 1! Parma! Niente! C'è Lulic, bene diagonale, Close! Close! Il gol di Close! Il gol di Close! Il gol di Close sotto la curva Nard! Mino Close! La piazza come una palla di biliardo! Lazio 2! Lazio 2! Parma 1! Il vantaggio tra Lazio! Mino Slab! Close! Che età! Che età! Gioco di game! Bale e mezzo! Il tiro! Go! 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 Antonio! 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 Magia! Sotto la curva Nard! Antonio! Gagreva! 3 a 2! 3 a 2! In extra time! La Lazio! Angrappata al 6 posto! Antonio! Antonio! Gagreva!